Ciao ragazzi, oggi non è una lezione ma è solo un annuncio per ricordarvi che domenica 7, non 8 come ho detto negli ultimi video, ma domenica 7, quindi questa domenica, alle ore 21, precise proprio, farò questa diretta in cui potete chiedermi tutto ciò che volete, mi sono già arrivato in una valanga di domande di qualche amico che purtroppo non potrà essere presente, quindi c'ho già delle prenotazioni, non so cosa ho fatto per creare tanto interesse, però mi fa strapiacere, quindi se vi collegate sul mio account YouTube, quindi sui corsari di YouTube, alle 9 inizierà questa diretta, mi potrete commentare, quindi fare tutte le domande che volete, riguardo al basso, quindi la tecnica, l'armonia, il suono, tutto quello che vi passa per la testa e che magari volete approfondire, oppure anche per la mia attività come musicista, insomma tutto quello che volete. Che dire, sto provando anche a collegare altri social, in modo che chi non ha un account YouTube può comunque seguire la diretta, ad esempio su Facebook, quindi se in questi giorni partiranno dei video strani sui miei profili, saranno prove, sto montando un po' di attrezzatura perché sono un po' indietro su queste cose, ecco diciamo così. Allora niente, non mi resta che aspettarvi domenica, sperando che fili tutto liscio, che smetto di piovermi in casa perché oggi ho passato la giornata sul tetto a levare leggerissima infiltrazione, non so se me ne eravate accorti nei video più scenetici, c'è un secchio qui, comunque. A parte questo, oggi mi riposo e domani faccio un po' di prove per questa diretta. Vi aspetto e a domenica. Grazie.